Cari amici di Musica del Mendrisiotto, domenica 7 giugno sarà nuovamente l'occasione per incontrarci di persona con una mattinè nel Chiostro dei Serviti oppure in caso di cattivo tempo nella Chiesa San Giovanni con l'ensemble Borromini. Fino ad allora avremo però il piacere di gustarci una serie di arie tratte da opere di Puccini, di Cilea e di Boito. Interprete d'eccezione il soprano Anna Pirozzi che calca i più importanti palcoscenici del mondo dall'Arena di Verona al Metropolitan di New York fino alla Staatsoper di Vienna. Qui per voi dalla nostra Sala di Musica del Mendrisiotto. Proporremo dunque quotidianamente nei prossimi giorni ogni giorno un'aria con appunto Anna Pirozzi e all'accompagnamento al pianoforte il nostro Regian Tecchia. Cominciamo con la meravigliosa aria Io sono Luminar Cella tratta da Adriana LeGouvreur di Francesco Cilea. Buon ascolto! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.